A volte abbiamo un grande baccano nella testa, così non riusciamo a pensare, a riflettere, a concentrarci sulle cose nella maniera giusta. È una tempesta. Dobbiamo allora rimuovere quel baccano, fare silenzio, un po' di solitudine, quella giusta, non l'isolamento che ti fa male, ma la solitudine che serve per pensare in santa pace. In quanto al ridere di noi stessi mi viene in mente una vecchia battuta di Frassica in relazione ai difetti che teniamo nascosti, che non vogliamo mostrare. Mi ricordo quando disse comicamente ma io quando sono da solo in privato sono balbuziente, quando sono in mezzo alla gente siccome mi vergogno parlo normale. Questione Ucraina, ma quanto mi hanno rotto i cosiddetti, sostituite cosiddetti con il termine che ben conoscete voi, con la questione politica. Per me non è una questione politica, è una questione umanitaria. Quando andate in giro per strada con l'automobile trovate un gatto ferito, che cosa fate? Io mi fermo, scendo, raccolgo il gatto e lo porto dal veterinario, non so voi. Voi mi direte ma ci sono un sacco di gatti feriti in giro per il mondo, io sono passato e ho visto quello, che devo fare? Quindi non rompete il cosiddetto, sostituite voi cosiddetto con il termine che ben conoscete. Che poi a dirla tutta ci tenete davvero a tutti gli altri gatti? Beh fate qualcosa per gli altri gatti allora. Una delle mie più grandi fortune in senso letterario è aver letto l'Apologia di Socrate. Se solo le persone leggessero qualche paginetta specifica, so io bene quali, dell'Apologia di Socrate, che è un librettino piccolo piccolo, si legge in fretta oltretutto, smetterebbero di credere di poter essere competenti su tutte le materie e si limiterebbero a parlare solo di ciò di cui sono competenti veramente. Troppo arrogante dire so bene io quali, ma no, è per non togliervi il gusto e il piacere di trovarle da soli quelle pagine. A proposito dell'invidia, invidio bonariamente fotografi e poeti. Se devo descrivere la solitudine magari uso un sacco di parole. Il poeta poche righe, il fotografo basta un'immagine e tu dentro ci puoi leggere la solitudine sotto i suoi molteplici aspetti. Mi viene da ridere perché mi hanno scritto, ma Natia, perché non fai anche tu come il professor Galimberti che va in giro a tenere conferenze a destra e a manca? Cazzo, scusate, vabbè, ma avete presente il professor Galimberti? Non sono mica all'altezza. È vero che in passato ho tenuto i cosiddetti satsang un po' in tutta Italia. Che cosa sono? Praticamente vengo invitato presso diverse associazioni e mi metto a disposizione per rispondere alle domande dei presenti che riguardano problematiche di ricerca interiore. Ecco, anziché tener conferenze alla Galimberti, ce ne vuole, io mi sono sempre occupato di questo. Quindi, volendo, si può fare una cosa del genere compatibilmente con il calendario che devo seguire.